Nel video precedente, abbiamo visto come creare i livelli vettori nel pannello Progetto. Abbiamo visto anche come insegnare un vettore a un livello. Ora possiamo cominciare a creare il rilievo usando i vettori. Prima di iniziare a creare un rilievo, è sempre una buona regola creare dei livelli. Perché dobbiamo creare dei livelli per il rilievo? Sono necessari. Sono utili. Rispondo a queste domande con un estratto di una lezione del corso base su Articam. Per capire cosa sono i livelli, immaginate di voler fare dei disegni su un foglio bianco. Per esempio, una casetta. Poi, disegniamo un paio di alberi. Aggiungiamo anche il sole. Bene, abbiamo fatto un bel disegno. Però, se vogliamo disegnare la luna al posto del sole, dovremmo cestinare il disegno, e ricominciare da zero. Per evitare questo, potremmo disegnare ogni oggetto, su dei fogli trasparenti separati. In modo da buttare via solo il foglio trasparente del sole. E poi, sovrapporre il foglio trasparente con la luna. Una volta finito, incollare tutti i fogli trasparenti con i disegni sul foglio bianco. Come fosse un disegno unico, i livelli, nell'esempio sono i fogli trasparenti. La lezione continua. Ma a noi serviva solo la parte dove spiegava a cosa servono i livelli. Ora che abbiamo capito l'importanza dei livelli, torniamo alle costruzioni del nostro rilievo. Nella voce Rilievo anteriore clicchiamo sul segno più. Rinominiamo questo livello che chiameremo Fondo. Poi selezioniamolo. Assicuriamoci che il livello Vettori Cerchi, si è attivo. Poi selezioniamo il livello Rilievo Fondo. Tasto F3 per passare nella vista 3D. Attiviamo la vista Vettori. Selezioniamo solo il cerchio esterno del bordo. Clicchiamo sullo strumento Modifica della forma. O Shop Editor come volete chiamarlo. La prima estrusione che faremo, sarà il fondo del nostro rilievo. Con il profilo piatto selezionato nella casella iniziale scriviamo il valore 5. Nella scheda Progetto abbiamo creato il primo rilievo. Clicchiamo sul segno più per creare un nuovo livello rilievo. Rinominiamo il nuovo livello con il nome Bordo, e selezioniamolo. Passiamo nella vista 2D. Disegniamo con gli strumenti laterali il profilo che avrà il bordo del rilievo. Con l'aiuto dello strumento Modifica nodi eliminiamo la base del rettangolo. Ripetiamo la stessa operazione con il lato superiore, selezionando un nodo e premendo la lettera C. Non ci resta che unire i lati con un arco, ed unire i vettori. Selezioniamo e clicchiamo lo strumento, Swip due linee guida. Selezioniamo il cerchio esterno e clicchiamo su Imposta prima curva guida. Selezioniamo il cerchio interno e clicchiamo su Imposta seconda curva guida. Nello strumento Swip la direzione delle frecce delle curve guida, deve essere uguale. Qui notiamo che non sono posizionate nella stessa direzione. Quindi dobbiamo invertire la direzione delle frecce in una curva guida. Grazie. Selezioniamo il vettore del profilo e clicchiamo su Aggiungi sezione. Sempre con il livello rilievo bordo selezionato, scaliamo l'altezza del rilievo. Apriamo il pannello Progetto e disattiviamo tutti i vettori meno quello dei piccoli cerchi. Sempre nel pannello Progetto, creiamo un nuovo livello. livello rilievo rilievo rinominandolo Cerchi piccoli. Selezioniamo il livello rilievo appena creato e vettori dei piccoli cerchi. Apriamo lo strumento Modifica della forma. Attiviamo il profilo Forma rotondo. Facciamo delle prove anche estrudendo il negativo. Grazie. 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 Abbiamo creato un fondo, il rilievo del bordo e quello dei cerchi piccoli. Salviamo il lavoro. Nel prossimo video completeremo il rilievo e lo esporteremo in formato STL. Grazie. 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 Grazie.